Oh, Ari buongiorno, è tre oggi, ma chissà chi passerà di qua, lo vedrà di pomeriggio, di sera, di notte, di primo mattino magari, chissà. Io spero che sia veloce questo caricamento. Ciavo la minù in giro qua, che abbaia, abbaia. È una bellissima giornata, è lunedì, a me piace il lunedì, mi piace il lunedì, smettetela, è bello il lunedì. Comincia, comincia, tutto ciò che inizia può evolvere in mille molte. Sì, ho capito che è un periodaccio, che se ne inventano di ogni, ma chi l'avrebbe mai detto? Che saremmo diventati amici, nemici, amici con i nemici, nemici con gli amici. Vabbè, è un momento bizzarro, mi tiro fuori se tante cose, anche se poi prendo una posizione, è evidente la mia posizione. Perché ci tengo alla pellaccia, perché dono il sangue, perché penso alla salute. Vabbè, comunque, non inizio a besticciare. Ah, cominciamo con i bambini questa settimana? Oh, io adoro girare per il mio Instagram, perché è bello, perché vedo le cose belle, perché si parla di bellezza, soprattutto. Per fortuna, almeno lì, si partecipano a momenti, i nostri giardini, i nostri animali, le nostre cose, i nostri progetti, filati che amiamo, le aziende che produco, le filati che amiamo. Io poi, mamma mia, lavorerei proprio, fare la volontaria nei negozi di filati. Vengo, mi do una mano. Mi piace, mi piace assistere le persone. Quando entra una persona in un negozio di filati, io vorrei stare dalla parte di là del bancone e dire, mi dica, sono subito da lei. Però non dico perché è mio, va bene? No, scherzo. Però mi piace, mi piace, riesco sempre a fare delle vendite quando sto in giro, non so perché, perché mi piace. Quindi quando vedo una persona che, quando vedo magari la commessa che è un po' in difficoltà, magari chiedono una cosa molto tecnica o che ne so. Io mi sono sentita rispondere quando ho chiesto della nana per calzini, le nane di pecora, come hai detto? Non mi ricordo, la roba così non le vendono. Come dire, ma cosa mi viene a chiedere? Ho capito, manco avessi chiesto la ricotta di pecora a chi? Non lo so, a chi lo vado a chiedere un filato per calzini? Perché ci sono ancora troppi commercianti che sono fuori, fuori, fuori proprio dal vero mondo dei creativi, degli attivi, degli appassionati. C'è anche quel mondo così, è buono, sì signore è buono, lo prenda, ecco. Io adoravo i salumieri, quanti facevano assaggiare le cose. Poi sono arrivati i promoter, che mi hanno sempre fatto una pena, mamma mia. Poi vedevo degli sguardi persi. Io ho un'amica che è stata ganzissima come promoter, si è trovata in un supermercato, ai tempi quando ancora nei supermercati i prodotti per bebè non c'erano, a dover promuovere un latte per l'infanzia, un latte di quelli artificiali. E diceva, ma figurati se danno retta a me le mamme che hanno già i pediatri, che dicono già cosa devono prendere. Quando ancora non c'erano gli integratori così diffusi? Adesso abbiamo i negozi che vendono solo quelli, no mamma che paura. Allora lei come l'ha venduta? Oh ma ha fatto delle vendite incredibili, ma è simpaticissima. La mia amica è riuscita a campare vendendo enciclopedie per strada, ma è una persona seria, non ha mai detto una cosa per un'altra, non ha mai, per quanto ne so, ma sì. Perché poi è una candida proprio, non maschera e niente. Ma è simpaticissima. E ha scritto un bellissimo libro per l'infanzia dedicato alla sua cagnolina che non c'è più a Kira, ma è proprio tutta una cosa divertente che ha a che fare con il golf, con il gioco del golf, perché lei è segretaria in un circolo del golf. Ci siamo sempre spannunciate a riguardo. La prima amica probabilmente, proprio amica amica, che mi sono fatta nella mia vita laziale. La prima vera amica, insomma. E purtroppo siamo lontane, beh. E insomma, lei ha detto, io non sapevo come fare, ma figura. Però ha detto, eh no, mi ci sono comprata l'automobile con quella linea di prodotti. A rate, ha detto, però ho dato l'anticipo. Ha iniziato a promuoverlo con chi? Con quelli che vedeva muscolosi, con quelli che vedeva proprio patiti, e con gli anziani. Ma guardate, quando ancora non c'era tutta questa informazione, volendo uno si può informare su tutto, insomma, riguardo all'alimentazione. E lei è stata ganza, perché mica diceva una cosa per un'altra. Poi lo dice veramente in maniera cambiata. Vabbè, insomma, insomma, i filati, le cose buone. Signora, venga qua, le faccio assaggiare. Io mi ricordavo con quella bella pinzettina, quando andavo dal salumiere della mia nonna, a più in b, non fonda una discesa. Io non so, mi facevo portare quelle borse di plastica, ve le ricordate? Che adesso le hanno fatte super chic, allo stesso formato. Mi ricordo quella bucata che aveva proprio la borsona rigida, le prime cose di plastica, che sembravano una mano santa. E facevo questa salita, ma prendevo tre cose, perché, vabbè, comunque. E con la pinzetta, dai, vieni che ti faccio assaggiare la mortadella, che poi la mortadella la chiamiamo noi. In Lombardia, quando ci ho vissuto, 30 anni e passa, 33 anni fa, la chiamavano la Bologna. Bisognava dire la Bologna, se volevi la mortazza, quella che a Roma è la mortazza. Altrimenti la mortadella era un salume tipico d'oca, molto diffuso, anche fino a Turbigo, che poi la patria dei prodotti d'oca è la lomellina, diciamo, mortara. Io quanto ho amato l'odore invernale di mortare, anche di Alessandria, Luca. Sì, quante volte mi sono trovata a passeggiare per Alessandria nell'attesa delle coincidenze per Novara. Eh sì, facevo tutto. Ma io non ho mai capito, perché non ho mai fatto una stessa tratta, andando a Turbigo. A volte andavo verso Milano, facendo cambi a Sestri, cambiando poi a Genova, cambia, cambi, cambi, su cambi, quante risate. E a Milano, poi a Milano andavo alla Nord, prendevo il trenino della Nord, quelli duri, brutti, di legno, con gli scadini sotto alle chiappe, che ti dici, se era l'unico posto accessibile, ti venivano sicuramente degli accidenti da quelle parti. Ah, bello, vabbè, mi sono divertita. Devo dire che per fortuna nel tempo, se lezione ricordi, mi tengo quelli divertenti e buoni, diciamo, è come se ci avessi vissuto sempre da sola, insomma, da quelle parti, escludo tutto il resto, e mi rimangono certe visioni, e così, meno male, è una salvezza di noi esseri umani, della vecchiaia, non lo so, però ho fatto stacca, insomma, vabbè, veniamo qua, veniamo alle cose belle. Allora, è da tanto che non mi sentite parlare di bebè, ma perché c'era mia figlia che stava producendo, perché ho mollato a mia madre tutti i filati che avevo già preparato, quasi tutti, perché buona parte, adesso se li becca la Camilla, per fare le cosine alle gemelle, perché mia madre è un'iperproduttiva, poi anche lei il caldo le ha dato una bella suonata, e si è data una calmata pure lei, io non rendo niente d'estate, niente, adesso in pochi giorni ho finito cose, ho già progettato cose, sono più attiva, e mi riposo pure di più, perché mi ciondolo col caldo, mi perdo, non metto a posto, non sistemo, non produco, sto in piedi, non lo so cosa succede col caldo, fatto sta che non sto bene, perché poi a me si abbassa la pressione, e mi passa la voglia di andare a camminare, anche perché poi mi dispiace, il menu adesso fa veramente fatica, a lungo, non mi fa male la zampetta, dove le manca il collo del fembo, non la posso sforzare, anche se poi lei parte in quarta, ora ha imparato a si ferma, e quando vuole essere presa in braccio, ecco, lo fa, a volte la devo fermare, io che vedevo che era tutta ciondolosa, dov'hai che non ce la fai più, è tosta la mia cana, non vedente, senza il collo del femmero, della coscieta posteriore e sinistra, eppure, eppure lei ci dà dei punti a tutti, ci dà un esempio, è gazzissima, adesso a me la vedo, quando fiuta l'ostacolo, a volte cozza, soprattutto è bellissima, quando cozza davanti, ora se mai sto vizio, di fermarsi sullo scalino, sull'uscio insomma, e lei arriva di corso, tutututututu, sculettina, po, un cozzo contro il gatto, che ce l'ha davanti, è più in grado di avvertire, con lo spostamento d'aria, credo, gli ostacoli laterali, quando si avvicina a un ostacolo, sente variare del calore, non lo so, però la vedo, quando intuisce, l'avvicinarsi di un ostacolo lateralmente, è incredibile, la studio la menù, perché se voi pensate, quando ve la filmo, che lei corre in avanti, e lei non è che ci vede poco, e il mio amico Aldo, cacco, ma ci vede un po', ma mi guarda, no Aldo, tira sul musetto, perché sente, sente la distanza della voce, ma non ti vede, non ci vede proprio, ma si vede anche guardando gli occhietti, come riflettono la luce, non c'è proprio, la dilattazione della pupilla, anzi, di grazia che non sono venuti bianchi, perché avrei sofferto, e ha fatto risonanza magnetica, prelievo dell'irico, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto quello che era possibile, sono un miracolo ormai, e lei va, va con una fiducia, lei tentenna, e muove le zampe in avanza scoperta, solo quando sente, soprattutto quando sente, i nuovi marciapiedi, e l'asfalto dove lei non è mai passata, allora teme, i buchi teme di scalini, ecco, allora, tic tic, ma è bella, è bella, che lei si fida, lei va, lei si fida, non si ferma, ecco, è il buio, è il buio totale, pure lei vive il giorno, vive la notte, vabbè, comunque, adesso è qua, per terra sul suo cuscino, perché ancora cerca il fresco, e quindi, per terra, cuscino, fresco intorno, bella la mia bambina, quando dico bambina, qualcuno mi guarda schifiltato, io gli do bacetti in testa alla mia bambina, non gli do un bocca, ma non gli darei neanche ai bambini, ma è dato ai bambini, baci in bocca, ecco, mamma mia, ma me ne bacio la testina, le orecchiette, fu 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 fu, me la tengo vicina, bella guancia guancia siamo, è la mia bambina, infatti la chiamo Camilla, e quando arriva Camilla, mi non sposti, mi non vieni, oma, e vabbè, oma lo dice, ogni tanto oma, alla romana lo dice, però non ha la parlata romana, Camilla, niente niente, poi zero che zero, io se penso, quando andavo solo che dai nonni, tornavo a casa, che c'avevo tutto aspirato, proprio anche l'ago aspirato, no che brutta roba l'ago aspirato, ho 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 ho, le ganzo, le ganzo è un po' alla spezzina, ganzo, è ganzo, ganzo lo diceva mia zia, non so, di mio padre, ganzo, mi è rimasto, è ganzo, ganzo è un bello ganzo, poi c'è il ganzo, che sarebbe l'amante, non c'è il ganzo, non abbiate paura, e insomma, so contenta, ma io lunedì sono contenta, sento i 5T, entra la luce, e c'è un bel cielo, c'è un po' di foschia tra noi e l'Umbra, ma non c'è neanche una nuvola, a me piacciono le nuvole, però quando il mattino inizia così, mi piace, a volte mi piace anche vedere che c'è un po' di nuvola, che c'è un po' di pioggerella, c'è una siccità terrificante qua, piove più in Sicilia, veramente quest'estate ha piovuto molto più in Sicilia, che da noi in questa parte del Lazio, ha piovuto fango, devo dire quelle poche volte che ha piovuto, non è riuscita manco a bagnermi i vasi, la seconda fila a zero che zero, ma io vado alla Fontanella, ieri tre viaggi alle quattro, che c'era un caldo, ieri nel pomeriggio, un caldo bruciante proprio, sembrava le 13, 15 in mezzo ad un deserto, c'era un'anima in giro, zitti tutti a pennichellare, o al mare chissà, o al lago, e Minù voleva camminare, Minù ci lasci le zampe sull'asfalto in piazza, ma noi abbiamo andato, tre viaggi avanti in Drio, con l'anaffiatoio che mi perde da tutte le parti, e ticchi ticchi ticchi, si è stancata bene, poi si è messa a nanna, io ho fatto cose, ho fatto cose, e sono contenta, sì, adesso poi vado a fare la spesa, sì, devo andare a prendere e mangiare del gatto, che ho due giorni che senza i suoi barattoli, allora, quando ce l'ho me lo fa buttare, lo slecazza, adesso che ha fatto tutte le sue tiritere, che viene lì, che ha i crochi, li devo rabboccare, ce la colmo sempre, ma glielo devi rabboccare, se no ti smiagola, ti dai morsi, mi mangia le dita dei piedi, mi scarnifica, è un sadico il mio gatto, a volte vuole le coccode, come le fa con le unghie, mi prende la mano, me la solleva, allora devo fare i grattini, ma mi fa un male becco, e vabbè, allora, torniamo ai bebè, mi piace un sacco questo, questo canale, non so se si chiamano canali anche su Instagram, questi nomi, allora, sarebbe niente,